Se stai avendo difficoltà ad aprire le impostazioni su Windows 11 è possibile risolvere il problema andando direttamente a copiare e incollare così i comandi per ripristinare le impostazioni, semplicemente te li ho lasciati in descrizione, quindi iniziando prima dal primo comando getup package, questo qua, andiamo direttamente sul nostro PowerShield, Windows PowerShield, tasto destro sopra, esegui come amministratore, una volta fatto eseguiamo il primo comando e lo inseriamo qua sopra. Eseguiremo tutti i comandi quindi andremo a fare invio, se a te non esce così la scritta rossa puoi seguire il secondo comando e fai copia e lo metti qua. Una volta fatto eseguiamo il terzo comando E fai invio Una volta fatto scrivi qua sopra exit Una volta fatto con questo eseguiamo così una scansione sull'sfc spaccio slash scanno quindi vai direttamente a scrivere cmd prompt dei comandi e esegui come amministratore. Quindi andiamo a scrivere sfc spazio slash scanno e fai invio Una volta completata così la verifica sicuramente vi dirà file ripristinati quindi abbiamo trovato dei file danneggiati e li abbiamo ripristinati. Eseguiamo così il comando this online clean up image questo qua questi tre qua vanno eseguiti sul PowerShell quindi chiudiamo qua vai a scrivere qua sopra PowerShell Windows PowerShell esegui come amministratore e facciamo sì. Inseriamo il primo comando Inseriamo il primo comando Lo inserisci qua Non sono stati rilevati danneggiamenti dell'archivio dei componenti eseguiamo il secondo comando Aspetta che controlli e faccia così la verifica sul strumento gestione e manutenzione quindi devi solamente aspettare Fallo arrivare così al 100% e una volta eseguito il secondo comando inserisci il terzo Dopo il 100% e chiudiamo qua Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao Ciao